C'è chi piange morti dell'ultimo bombardamento e chi scava tra le macerie delle case distrutte per cercare coperte, cibo, vestiti. È la disperazione degli sfollati di Rafa, oltre un milione di persone, chiuse in una trappola senza uscita. Quest'uomo dice di essere arrivato qui, nell'estremo sud della striscia da Gaza City, di essere stato prima a Nuseirat, poi a Deir al-Bala, quindi a Magazzi, scappando dalle bombe israeliane, ma dice non esiste un posto sicuro. La situazione umanitaria a Gaza è disastrosa, ha ripetuto il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, mentre la direttrice dell'Unicef per il Medio Oriente ha dichiarato che la non curanza del mondo davanti alla morte lenta dei bambini palestinesi è scioccante. Un drammatico report di Azione contro la fame, la più importante organizzazione al mondo che lotta contro la malnutrizione, dice che oltre la metà degli abitanti della striscia non ha più scorte di cibo, che molti ormai mangiano il foraggio degli animali, che l'80% dei bambini ha malattie infettive e il 70% la dissenteria. Dopo quasi 24 ore l'esercito israeliano si è ritirato questa mattina dall'ospedale di Al-Shifa. Le immagini diffuse mostrano soldi e documenti trovati nella struttura che sarebbe stata usata da Hamas come un centro di comando. Nell'operazione sono stati uccisi una ventina di miliziani, tra cui il responsabile della sicurezza di Hamas. Il raid nell'ospedale però ha messo a rischio i negoziati per una tregua in corso a Doha, in Qatar, negoziati a cui la popolazione palestinese però non sembra credere molto, soprattutto per il ruolo degli Stati Uniti. Quest'uomo dice infatti che se solo volessero potrebbero fermare la guerra in 24 ore, mentre quest'altro sottolinea la contraddizione degli americani che da una parte lanciano aiuti alimentari nel nord di Gaza, dall'altra continuano a fornire armi ad Israele.